Avete presentato un'interrogazione richiamando l'attenzione sul quartiere Lido, secondo voi quali sono le criticità? Purtroppo ce ne sono tante, innanzitutto ringraziamo Fanotv che ci dà la possibilità di dire ai fanesi quali sono le attività che il Movimento 5 Stelle porta in Consiglio Comunale. Dopo le interrogazioni su San Lazzaro, che discuteremo nel prossimo Consiglio, ne abbiamo portata una sul Lido perché ci sono state segnalate diverse criticità, a partire qui dal parcheggio dell'ex chief che è in condizioni sicuramente non bellissime ma al degrado che c'è in tante altre strade che portano anche ad un'insicurezza sulle strade appunto per i pedoni e per i ciclisti, per partire da Via Filzi che anche voi veneravate occupati qualche giorno fa dove i marciapiedi praticamente non esistono più e le carrozzine sono costrette a passare sulla carreggiata, oppure Viale Cairoli con i due viali laterali che sono nelle condizioni che tutti quanti sappiamo in attesa dei lavori che prima o poi RFE dovrebbe fare con il sottopasso. Per non parlare del ponte sulla liscia che c'è un gradino veramente scandaloso da tantissimi anni, passando poi dopo sul lato mare rispetto alla ferrovia se andiamo intorno via Franceschini, via dello Squero, le zone del Google, delle stradine sono una peggio dell'altra. Ci sarebbe da risistemare anche i cassonetti dell'immondizia che sono messi in una posizione non proprio bellissima dal punto di vista turistico perché Lido comunque dovrebbe essere, non dico il fiore all'occhiello, però è una parte turistica molto importante per la città di Fano e il turista che arriva a Fano vede una situazione sicuramente non gradevole. Una cosa che manca anche nel quartiere, che oramai viene reclamata da tutte le parti, è uno sgambatoio, un piccolo sgambatoio perché dobbiamo ricordarci che innanzitutto molti turisti portano a seguito con loro i loro animali domestici per fortuna ma anche residenti, dobbiamo pensare anche ai residenti perché il quartiere dell'Ido non può essere interessato da lavori solamente in previsione di primavera e estate per i turisti, qui c'è la gente che ci abita e la condizione delle strade in particolare dell'insicurezza generale che c'è anche su Viale Cartucci non c'è lo scivolino per scendere dai marciapiedi, sono tantissime situazioni che fanno del quartiere dell'Ido quello che dovrebbe essere forse il fiore all'occhiello del quartiere di Fano, uno dei quartieri più degradati ma continueremo a segnalare queste cose anche negli altri quartieri.